Un duro colpo per l'Andrangheta, ma anche per coloro che al nord erano convinti che la criminalità organizzata fosse stata sconfitta. È il frutto dell'ultima inchiesta della procura antimafia di Milano. Operazione Quadrifoglio si chiama. Sotto la direzione del PM Ilda Boccassini ha portato a 13 arresti, in gran parte malavitosi di origine calabrese, ma residenti fra le province di Milano e Como, ma arresti sono stati realizzati anche in Calabria. I reati contestati vanno dall'associazione di tipo mafioso, la detenzione porto abusivo di armi, ma soprattutto colpisce una serie di subappalti legati a grandi opere collegate a Expo 2015 e ancora una volta connivenze esterne ma senzienti in un contesto, quello ondranghetaro, che secondo la PM Boccassini appare ancora ben saldo e radicato nella Lombardia che si avvia all'esposizione universale. Nulla cambia, quindi questa è naturalmente una riflessione che dobbiamo fare tutti, però è evidente che, come dice ormai sancito dalla Cassazione, l'appartenenza all'andrangheta puoi in due modi esserne fuori, o con la morte o se tu diventi collaboratore e quindi a tutti gli effetti, diciamo, ti dai allo Stato. Anche in questo caso è emersa come sia rilevante per queste proiezioni extra-regionali dell'andrangheta avere comunque un riferimento saldo, certo, nella regione di origine.